torna finalmente giro giro tanto siamo prontissimi a raccontarvi storia arte tradizioni e buona cucina dei nostri bellissimi borghi d'abruzzo sempre col sorriso però e sì perché come ogni anno accompagneremo lo spumeggiante roba da matti summer tour di vincenzo olivieri e allora segnate questa data giro giro tanto dal 5 settembre ogni martedì alle 22 su rete 8 grazie